Buongiorno Siamo arrivati a San Antao, ci stanno portando al nostro albergo, è veramente una figata qua, ma non solo fisherman, in questo posto si può arrivare solo in barca o a piedi. Buongiorno, sono appena svegliati, siamo di un posto veramente assurdo, in mezzo al niente. Buongiorno, quella è la nostra barca, altri fisherman. Tutto qua. Io sono arrivato fino a questo barca, stranamente torno qua. Si, se mi fai assistenza... Volentieri. Scusami. No, non è arrivato. Non, non è arrivato. e niente oggi ci stiamo riprovando ieri abbiamo avuto il primo contatto con un marlin la in questo momento vedo tipo dei delfini davanti a noi o forse tipo delle balene pilota ieri abbiamo appunto avuto questo primo contatto con un con un marlin purtroppo l'amo circle che di solito non fallisce mai in questo caso ha mollato per qualche strana ragione e quindi ci riproviamo oggi le condizioni sono propizie e speriamo che vada tutto bene ok 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 Sì, 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 sì. Ma lì, 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 lì! Che goce! Abbiamo appena avuto un'altra chance, un Marlin sembrava infoiatissimo, cazzo, ha preso Due volte l'esca l'ha risputata subito, non siamo riusciti a fargliela avere per ferrarlo, però è stato fighissimo perché è arrivato sotto la barca diverse volte con la spada, cazzo, non abbiamo capito se era uno o se erano addirittura due, vediamo, adesso stiamo tornando indietro, non è un'impresa semplice, non è una roba scontata. È partito l'unipatese in per l'altro. Un'impresa semplice Un'impresa semplice Non l'abbiamo fatta, stavamo trainando ed è partita alla fine l'unica canna con l'amo, che era quella più lunga di tutte, è stato un cazzo veramente potente, pesce veramente cazzate, il battimento è durato 37 minuti e niente l'abbiamo taggato, rilasciato, adesso evitiamo il modulo e lo registriamo. Ieri un equipaggio ha preso un grosso marlin che avete visto e adesso lo stanno conservando col sale, quindi stanno facendo questa preparazione per poterlo conservare, vediamo la parte. La giornata oggi sembra essere meno ventuosa, per cui ne approfittiamo, andiamo su un banco qui a Ventimiglia, una volta che avremo raggiunto il banco proveremo anche a fare un po' di jigging sopra, è un punto molto bello particolare perché dai mille metri arriva fino a 24 metri dalla superficie. Siamo arrivati sul banco, quindi stanno mettendo delle canne da traina per vedere la dove c'è in giro qualche wahoo, qualche tonno, stiamo facendo l'esterno e man mano ci avviciniamo all'interno dove proveremo a fare qualche jigata. Pagli! 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 Sì! Sì, calma! Calma! la casa ha portato fuori 700 metri di stile, ed è infermabile. Stavamo trainando sui 70 metri per cercare qualche bel posto per fare vertical GD e abbiamo avuto la fortuna che ci attaccasse un margine. Sembra anche bellino. Andalo là! Quanta metri! Qua sotto! Woohoo! Guarda, guarda! Ok, va a fare bene! Che figata ragazzi, guardate che pesce! Tag! Te l'hai? Che bestia, bellissimo! Toni, 5 centimetri con la girella! Sì, scusa! Ok! Fatta! Grandi! Eh sì, una becca e l'altra tre! Ben cassotti! Grandi raga! L'abbiamo fatto ragazzi, il secondo! Bellissimo cazzo, bellissimo! Dopo il Marlin ci fermiamo a fare due gigate su delle belle marcature che abbiamo visto. Adesso stiamo cercando il punto preciso. E caliamo! Ce l'ho! Sì! Era molto sospeso. Questa ce la mangiamo stasera ragazzi! Guarda che bello cazzo, si vede da dio! Lo vedi? Si vede benissimo! Madonna che pesce! Guardate che mostro! Bellissimo cazzo! Siamo di rientro dopo essere stati sul banco. Abbiamo preso un bellissimo Marlin. Poi abbiamo pescato a verticale, abbiamo preso delle ricciole. Abbiamo visto un gigantesco squalo balena, delfini. È stata una giornata molto proficua. Speriamo che lo sia altrettanto quello di domani. E adesso andiamo a mangiare perché abbiamo lo stomaco che richiede cibo. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito, buon appetito! Sinistra! Vai che se vai dietro! Cintura! Buona, buona! Ma c'era il terminale? Eh? Io a me è sembrato di vederlo! Vedevo una roba rossa! Guardalo là! È a galla Vito! Uh! Wow! Salta! Vai rubia! Wow! 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 Salta bello! Salta! Salta! Vai Tiger eh! No! È andato! È andato qua! Ha tagliato! Buona o spesso! Benissimo dai! Vaffanculo! Questo è preso! Tagliato il filo! Ci si è scrimpato l'amo proprio qua sotto! Non so cosa sia successo! Però dai! Era due metri! Il pesce era proprio stanchissimo! Si è girato di schiena! Bastavano due bracciate! Una sfiga! Questo giro l'attrezzatura ha la super altezza! Il combattimento è durato 24 minuti! Non è mai uscito tanto filo! Cioè è stato veramente una conferma! Canna super! Stella 30.000 efficacissimo! Vediamo di prenderne un altro! Dai! Vai! 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 Cintura! Vai! 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 Cintura! Ma ecco lo guarda con salta! Vai! 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 Io lo stavo guardando nell'eco e ho sentito Tiger dire. Guarda il terminale, eh? C'è il terminale? Sì, c'è il terminale qua. C'è il terminale, è tirato ed è rimpazzito. Con la cintura è un'altra roba. Un bel pesce, eh? Un quarti dell'agua. A me sembrava grandino, eh? Ma anche quando ha mangiato, l'ho visto che era grosso. Sto salendo! Ragazzi, tenetelo perché il nodo è messo malissimo, eh? C'è il nodo. Tienilo, tienilo Tiger, tienilo, tienilo, tienilo! È andato il nodo. Il nodo che legava il terminale, passando tra gli anelli, abbiamo preso in mano quattro volte al terminale, sfregando, sfregando, s'è rotto, s'è proprio rotto il nodo, però più di così non potevamo fare. L'attrezzatura è perfetta perché questo era un pesce da più di 200 kg, eppure non ha fatto una piega. Il combattimento è durato 27 minuti, per cui, cazzo, sono alla sua portata pesce anche più grande, secondo me. Siamo all'alba di un nuovo giorno, chissà se sarà il giorno in cui riusciremo a prendere finalmente il marlin a spinning o il giorno in cui ci rinunceremo. Per adesso stiamo andando alla barca, questo è il nostro pranzo, dieci uova sode, e vediamo. Oggi alziamo ulteriormente la spicella e proviamo a pescarli a spinning puro, quindi con un'esca artificiale, se ci sarà l'occasione andrò a lanciargliela, recuperarla, frizione serrata e andrò ad aprirla subito dopo lo strike. Stiamo trainando, abbiamo giù tre teaser, senza gli ami, e l'ombrello qua sotto, abbiamo parecchie marche in zona, abbiamo marcato delle marcature bellissime di manganze importanti. e quindi si utilizzano degli ami come questi, questi sono della BKK specifiche. Destra, sinistra, sinistra, sinistra. Orca troia lo portati in. E' impressionante, impressionante. Che c'è qua? Guardalo, guardalo Guardalo Mica che macigno ragazzi Dai guardagli la mano A lui Stiamo facendo riuscigionare E io ragazzi non so se avete visto Guardate con che cazzo l'abbiamo preso Mi stavo tirando in acqua E' stata una roba fuori di testa Spilling puro al 100% Cazzo tra l'altro era un pece della madonna Guardate lo' Grazie a tutti. Grazie a tutti.